Musica Quando io prendo il soggetto e lo metto in ipnosi e gli chiedo come si fa a far rispettere una volta uno l'ha detto con la religione e questo l'avevamo visto in alcuni casi di soggetti molto di giù i quali avevano bloccato lo stato di abduction pregando Dio aiutami, tra il prete santo già tirato su con cane, levitava così Dio aiutami, trum, rimutato giù Madonna, pensaci, cioè su queste cose succede poi vedi una cosa dubbiosa, sai, sai, sarai piano Dio aiutami, ci sono quelli che hanno una cultura religiosa la mutavi in quella direzione e funzionava finiva il partimento, non continuava Musica Musica estas Musica Musica Ar Ruthia Musica Anzi addirittura hanno detto questi esseri una cosa rivoluzionario Nemmeno credete in Gesù Cristo, fate semplicemente quello che ci scrivete, cancellatelo. Attraverso le sue piaghe noi siamo guariti e possiamo rinascere.